Minaccia un attentato sui social network e viene arrestato appena mette piedi a Sydney. Massima allerta in Australia in vista dell'arrivo del nuovo anno. Un quarantenne è stato prelevato dalla polizia subito dopo essere sbarcato dal volo proveniente da Londra. All'attività di intelligence si aggiunge anche il dispiegamento di 2000 uomini solo a Sydney. Abbiamo messo in campo una serie di misure anche fuori città. Non operano solo le forze di polizia ma tutte le agenzie governative per garantire il massimo livello di sicurezza. A Melbourne prima di Natale è stato sventato un attacco multiplo con armi ed esplosivi. Sia australiani e un egiziano sono stati arrestati e le autorità hanno innalzato il livello di sicurezza in tutto il paese. Gli australiani sono i primi a festeggiare il nuovo anno con la mezzanotte che scatta quando in Italia sono le due del pomeriggio. Quest'anno si potrà seguire in diretta Facebook il grande spettacolo di fuochi pirotecnici che illuminerà per 12 minuti la Baia di Sydney. Lo scorso anno oltre un milione e mezzo di persone parteciparono alla festa.